I 150 anni dell'Unità d'Italia non sono soltanto una festa ma anche un'opportunità per riflettere sul sangue versato anche dai vinti, prima e soprattutto dopo il 1861, i vinti che non hanno scritto la storia. E' per dar voce anche alle pagine più controverse del risorgimento che la Fondazione Cantiere Abruzzo Italia, presieduta dal senatore Fabrizio Di Stefano, ha promosso una serie di iniziative, le prime due delle quali saranno in programma venerdì e sabato prossimi a Civitella del Tronto, nell'ultima fortezza borbonica capitolare. Passa attraverso uno studio che abbiamo commissionato, una serie di studenti universitari coordinati dal professor Carducci, sulla situazione socio-economica dell'Abruzzo, in particolare del Mezzogiorno in generale, nel periodo ante Unità d'Italia. E confrontandolo con quella che era la situazione del 71 d'Italia, notiamo che 150 anni fa non c'era questo gap economico tra nord e sud, anzi il sud era molto più sviluppato del nord, se è vero come è vero che la prima ferrovia nella Napoli Portici era del sud, se è vero come è vero che le ferriere della Calabria erano le industrie siderurgiche più importanti d'Italia, se è vero come è vero che l'industria tessile del sud era la più sviluppata della penisola, se è vero come è vero che anche il settore culturale del Mezzogiorno era sicuramente superiore a quello del nord Italia. La conseguenza di ciò fu il gigantaggio, furono momenti di resistenza che durano anni e anni. Questo lo affrontiamo attraverso lo studio, attraverso la scrittura e la realizzazione di un libro che vorremmo fare, che abbiamo commissionato, sopra e su Civitella, sempre scritto da un altro giovane studente abruzzese anche se è tributato a Roma e infine il 31 marzo terremo un grande convegno a Chieti su questo argomento con la presenza di Macello Veneziani, dell'economista Locicero, del vice direttore di TG1, Rai, Gianni San Giuliano, San Gennaro e con diversi altri importanti esponenti del mondo dell'economia e della cultura. Per dare voce alla verità storica di un periodo importante per noi, importante per l'Italia, ma che l'Abruzzo in particolare, il Mezzogiorno più in generale, ha pagato con un grande tributo in termini economico, in termini sociali e in termini anche di sangue. Se proprio vogliamo dirla tutta, la vera unità nazionale in termini di sentimento si raggiunse nel 15-18 quando i ragazzi del 99 andarono nelle frontiere dell'Italia e nelle trincee del Carso a conseguire quella unità nazionale vera, fatta di passioni, sentimenti e di valori. E in quello i giovani del sud e i giovani dell'Abruzzo dietro il loro forte tributo di sangue.